ciao ragazzi benvenuti alla rocchetta mattei la vedete alle mie spalle c'era un vento incredibile però ho voluto provare a fare un volo lo stesso oggi la rocchetta è chiusa per cui non ci sono pericoli non ci sono sembramenti di persone si può volare tranquillamente a parte il vento che fortino è però non ho mai provato la nafi con tanto vento e ho voluto fare questa esperienza poi la rocchetta è meravigliosa vi consiglio di venirla visitare bisogna prenotare però buona visione e ci vediamo alla prossima a proposito ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei video ciao 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 ciao